Un prete intenzionato a fidanzarsi è stato costretto a lasciare la curia proprio per questo motivo. Ovviamente è nata la polemica perché molti dicono che non dovrebbe essere più necessario lasciare la curia per fidanzarsi e sposarsi, i preti dovrebbero potersi sposare, invece per altri non è così. Lei si sentirebbe offeso se i preti si sposassero oppure no? Secondo me è giusto. Secondo te è giusto? Sì. È giusto che cosa? È giusto che un prete possa, anche in America comunque, hanno una loro vita, famiglia e tutto, quindi secondo me è giusto. È giusto che possono sposarsi pur mantenendo il ruolo dei preti. Sono pedofili la maggior parte, quindi piuttosto che fare così allora è meglio che abbiano una loro famiglia. Lo stesso discorso vale anche per le suore oppure no? Sì, anche per loro, però loro le vedo già più inquadrate su sta cosa. Secondo te perché molte persone si sentono infastidite dal fatto che un prete si possa sposare o fidanzare? Fastidito a me no. Tu no, però perché secondo te molte persone sono così? Perché vedono, perché sono così, perché da quando comunque nascono che magari vedono il prete inquadrato. Comunque sei a favore? Sì. Secondo me lo possono fare anche rimanendo preti. Come mai? Perché io sono cristiana ortodossa e da noi la religione dice che non puoi essere prete fino a quando non ti sposi e non hai una famiglia. Secondo me lo possono fare tranquillamente anche se sono sposati. Secondo te perché molte persone sono contrarie a questo? Eh, guarda che non lo so. Per esempio, quando non hai una cosa lo vuoi a tutti i costi, in questo senso. Avendo già una moglie, un bambino, avendo una famiglia io lo vedo una persona un po' più... Completa. Completa, giusto, completa. È quello. Quindi tu pensi che il prete non potendosi sposare... Sì, gli manca qualcosa e lo sai, noi uomini in generale siamo uomini, parlo di persone in generale, siamo fatti così. Quando... Quindi parli anche di un bisogno fisiologico? Anche un bisogno fisiologico, sì, ma dobbiamo essere realisti. Ascolta, vale anche per le suore? Eh, no. Questo è un altro discorso, perché le suore fanno il voto di castità, sono in monasteri e la loro scelta, va bene, anche i preti hanno la loro scelta. E quindi non possono sposarsi rimanendo suore? No, quello no, perché è così. Non me ne importerebbe niente, più che altro. Come mai? No, beh, sono abbastanza laico e quindi... ma sono favorevole al non celibato dei preti, al non celibato. Vale anche per le suore? Anche, ovviamente. Secondo lei perché molte persone invece si sentono offese? Perché vivono secondo i dettami curiali che prevedono il celibato, il celibato assoluto. Quindi è giusto che vengano rispettati secondo queste persone? Per queste persone è giusto che questi criteri vengano rispettati. Quindi comunque se dovessero cambiare le cose lei non... Sarei indifferente. Sarei indifferente.